Ciao ragazzi, grazie per gli apprezzamenti che avete fatto sul video post gara col Cosenza del Bari che il Bari ha vinto 1 a 0. Volevo fare questo video a proposito delle dichiarazioni post gara dell'allenatore del Cosenza di Onigi. Dichiarazioni completamente fuori di senno, completamente strampalate. Già avevo messo il punto sulle dichiarazioni di Onigi nel pre gara, dichiarazioni pre tattiche, ma nel post gara mi sono completamente stupito ad ascoltare delle dichiarazioni completamente fuori dal mondo e di Onigi se dimostri questa intemperanza, questo nervosismo negativo, questa mancanza di lucidità da leggere le partite, questo si riverbera nel comportamento della tua squadra che è completamente distonico rispetto a quello che dici tu. Dunque abbiamo il Bari che fa 4 tiri in porta, andiamo sulle statistiche, anzi andiamo sulle statistiche, il Bari fa 4 tiri in porta e il Cosenza 1, il Bari fa 10 tiri fuori dalla porta, il Cosenza 5, possesso palla del Bari quasi 60%, possesso palla del Cosenza 40%, calci d'angolo 3 a 3 in pari, calci d'angolo in pari, 14 falli da parte del Cosenza, 9 del Bari, 5 cartellini gialli del Cosenza, 3 del Bari, 1 cartellino rosso del Cosenza, quindi Cosenza falloso, Cosenza, senza possesso palla. Ora Dionigi ha detto che la sua squadra ha giocato benissimo, il Bari non ha meritato di vincere, la sua squadra ha avuto il controllo della partita, soprattutto nel primo tempo, il Bari ha giocato di ripartenze, Dionigi quello che dici è completamente fuori dal mondo, mi devi spiegare come fai ad avere il controllo del gioco se non hai la palla fra i piedi, hai avuto 40% di possesso palla, il Bari 60%, hai tirato una volta dallo specchio, come hai fatto? Come hai fatto ad avere il controllo del gioco Dionigi? Ti informo di una cosa, avete giocato voi di ripartenze? Avete giocato voi di ripartenze perché il gol che avete, la ripartenza su Brignola, qual è una ripartenza? Il Bari ha costruito il gioco, ha creato simmetrie, ha giocato con la palla a terra, quindi hai perso, non hai manco pareggiato in casa, hai perso, quindi sei fuori dal mondo Dionigi, sono dichiarazioni completamente strampalate, il Bari ha giocato con delle ripartenze, ma dove? Il gol che abbiamo fatto è tutto costruito, palla a terra da centrocampo, non è una ripartenza il gol che abbiamo fatto, tu hai giocato di ripartenze, nel secondo tempo dovevi fare tu la partita e attaccare, che hai fatto? Abbiamo avuto sempre la palla a noi, il Bari è una squadra esperta, ma noi l'anno scorso giocavamo in Serie C, allora Cagliari, Genoa, Benevento, che squadre sono? Squadre che vengono dalla Serie A? Quali sono le squadre esperte di Dionigi? Non certo il Bari, il Bari viene dalla Serie C, erano tanti anni che non facevamo la B, quindi completamente non so quanto durerà Dionigi, perché in Cosenza, ieri ho visto una squadretta, a parte Brignola, Brignola noi non abbiamo un giocatore come Brignola, quindi a parte Brignola, centrocampo inesistente, non so come ha fatto a dire che ho visto un Cosenza che ha dominato il Bari, che ha governato il gioco, il controllo del gioco ce l'abbiamo avuto noi, ce l'aveva avuto il Bari, e ti ricordo Dionigi che il Bari si è mangiato un rigore all'inizio, altrimenti già andavi sotto dopo 5 minuti con un tuo difensore che sembra giocare a pallavoro in area, rigore che non era stato manco dato dall'arbitro, quindi rischiavi pure di rubare, poi ha detto eh, si sono anche aiutati, Dionigi aiutati al novantesimo con la palla vicino a calcio d'angolo, lo fanno anche in Champions League, lo fanno anche in Champions League Dionigi, ma dove vivi? Che calcio vidi? Do stai? Do stavi durante la partita che facevi, ti lamentavi, facevi ok ok ok, ti lamentavi ok ok ok, la tua squadra ha perso in casa, ha perso anche sul piano del gioco, ha perso anche sul piano delle statistiche, che parlano chiaro, parlano chiaro, hai tirato una volta in porta Dionigi, una volta in porta, hai preso la traversa da 30 metri, vabbè può succedere, il tiro dalla domenica che non è andato bene, ti sei mangiato la ripartenza, tu hai giocato la ripartenza, non il Bari, il Bari ha costruito il gioco, ha tenuto il pallino del gioco, il primo gol è fantastico, vattelo a rivedere, e quindi non il Bari è una squadra esperta, quando andrai a giocare con Cagliari, con Genoa, col Brescia pure, col Venezia, col Benevento, allora che squadre sono quelle? Dai, non diciamo chiacchiere Dionigi, abbassa la testa e ammetti il valore e il merito dell'avversario, hai strameritato di perdere ieri, perché nel secondo tempo sembrava che essessi tu in vantaggio 3-0, non il Bari, non hai toccato una palla nel secondo tempo, non è che metti gli attaccati dentro e segni, troppo fa, posso tornare pure io a fare l'allenatore così, c'è da recuperare, metti 10 attaccati dentro, alla Murigno, no? Dai, forza, rivediamo la partita ragazzi, è stato un Bari con una prestazione eccellente, un controllo di palla, un pallino del gioco sempre a disposizione del Bari, abbiamo subito un po' a metà del secondo tempo un po' il rimpallo dell'emozione negativa, del rigore sbagliato e loro hanno avuto una ripartenza sul nostro calcio d'angolo, loro sì che hanno giocato di ripartenze e poi hanno fatto quella traversa da fuori che non va conteggiata perché tiro dalla domenica e poi hanno fatto un'azione lì sulla sinistra che è stato bravo Caprile ma ha avuto la palla fra le mani, nessun problema per i Bari ieri. Dunque, vittoria importantissima perché il Bari adesso è quinto in classifica, hanno vinto quasi tutte quelle davanti e è quinto in classifica con 9 punti, ha 3 punti dalla vetta, però ci aspetta adesso il giorno della morte che dirà, che ci potrà dire un po' il Bari come si posizionerà in questo campionato almeno nella prima parte perché andiamo a giocare a Cagliari e sappiamo che Cagliari è terzo in classifica, andiamo a giocare fuori casa di una squadra che viene dalla Serie A e che ha fatto molti anni in Serie A, poi giocheremo in casa col Brescia, secondo in classifica, altro super candidato la Serie A, poi andremo a giocare a Venezia e Venezia non sarà assolutamente una trasferta semplice, anche se è giù in classifica però non sarà una trasferta semplice, poi giocheremo in casa con Lascoli che ieri ha vinto a Perugia che noi abbiamo battuto fuori casa 3 a 1, quindi abbiamo Cagliari e Brescia in cui dobbiamo portare a casa almeno due punti da tutte e due le gare, però conterà la prestazione, se il Bari continua a giocare così ci sta dando belle soddisfazioni e ce le darà perché il mister Mignani è il numero 1, ecco Dionigi vai a sentirti le dichiarazioni di Mignani così impari un po', capisci un po' di calcio e impari un po' a leggere le partite e a comunicarle magari ai tuoi giocatori, quindi grande mister Mignani ieri, grande lettura della partita, un cambio al 75esimo con Salcedo che ci sta, una squadra che ha risposto bene anche a quelli che hanno giocato al posto degli infortunati come Mallamo, una bella partita di Mallamo, secondo me benissimo ieri Maiello che dira, vabbè, Savan Sandir, Antenucci così così, se maggiato il rigore vabbè ma ci può stare, Fonorruscio bene nei controlli così così, bene la difesa di Cesare Terranù va benissimo e anche Ricci sulla sinistra che ha messo l'assi, sono tutta la squadra bene, io ragione più per squadra che per singoli, niente ragazzi, forza a Bari, iniziamo a preparare la trasferta di Cagliari che sarà molto importante per far capire il reale valore della squadra, se possiamo davvero competere e ambire a stare nelle prime in classifica di questo campionato bellissimo di Serie B, dai e forza alla Bari, ciao, commentatemi il video, iscrivetevi al canale, anche se non condividete, fatemi sapere cosa ne pensate perché ci aspetto una grande stagione, è bella da seguire, la Serie B è bellissima quest'anno, forse più bella della Serie A, cheers, ciao 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 Ciao